Se Andrea si lecca le ferite per la scomparsa dell'unico ed ultimo teatro rimasto chiuso per tanti anni ed ora destinato a trasformarsi in un palazzo come l'Astra, a Trani, nelle stesse ore, quasi come uno scherzo del destino, il Consiglio Comunale approva l'accensione di un mutuo per l'acquisto del Cinemateatro Impero e del Supercinema. Credo che sia il grande regalo che ci siamo fatti come città. Investiamo, ma investiamo nella cultura, nei grandi contenitori culturali, una città che ha un grande fermento culturale, ma che purtroppo non ha i luoghi dove questo fermento possa esplicitarsi, manifestarsi. Lo abbiamo fatto praticamente acquistando due veramente pezzi di storia della nostra città. Immaginate ex cinema, nonché ex teatri, che hanno 100 anni di età, lo facciamo realizzando nel pieno centro della città, nel salotto della città. Sicuramente la giornata di ieri sarà una giornata che questa città ricorderà per molto tempo, perché quando vedremo il teatro comunale realizzato, quando vedremo questo grande centro culturale polivalente realizzato, sicuramente in quel momento brilleranno gli occhi di tanti cittadini tranesi, in primis sicuramente i miei. Un regalo alla città, lo ha definito il sindaco Amedeo Bottaro, in un momento in cui il pubblico non effettua investimenti di questo genere, specialmente in cultura. Certamente ora, dopo aver formalizzato le azioni propedeutiche all'acquisto, bisognerà ipotizzare rapidamente importanti lavori di ristrutturazione, anche se nella delibera approvata ieri dal Consiglio Comunale Tranese c'è una lettera di intenti della Regione Puglia, che plaude al percorso avviato dall'ente, regione che sarà sicuramente decisiva per aiutare il Comune di Trani nelle opere necessarie per far rinascere e rivivere i due spazi culturali. Di certo, la decisione dell'ente tranese apre scenari di riflessioni importanti sul territorio, specialmente in un momento in cui si parla tanto di cultura, ma gli spazi culturali sono sempre meno e sempre meno valorizzati, sostituiti spesso da azioni private. Una scelta in controtendenza che si spera possa aggiovare l'intera provincia. Proprio perché in controtendenza lo deve fare il pubblico, la verità è che oggi, in questo momento, con chiaramente ormai l'arrivo di Amazon piuttosto che Netflix, piuttosto che Sky, da Zone, possiamo finire la lunga serie. Considerando anche le grandi multisale, considerando la realizzazione di spettacoli sempre più virtuali, la verità è che il privato non riesce a sostenere praticamente invece questo tipo di attività culturali. E questi sono i casi in cui deve intervenire il pubblico, perché al contrario sono contenitori culturali che vanno necessariamente realizzati, mantenuti, perché c'è un'offerta culturale che la città chiede.